Ne ha approfittato per avere ulteriori delucidazioni sul congresso cittadino confrontandosi con il segretario regionale Anthony Barbagallo, il segretario provinciale del PD Peppe Di Cristina. Ieri è stato impegnato in un incontro convocato direttamente dai vertici dem siciliani, una segreteria regionale ma allargata e rappresentanti provinciali e deputati all'Ars del partito. Insieme a loro il ministro Giuseppe Provenzano che ha fatto il punto della situazione sulla crisi politica in atto che potrebbe anche fargli perdere la guida di un dicastero in questi mesi politicamente strategico anche nei rapporti tra i dem locali e il sindaco Lucio Greco. L'ultima tappa è stata quella del contratto istituzionale di sviluppo che però rischia di impantanarsi proprio per lo stop imposto dalla crisi di governo. Di Cristina attende di chiudere il cerchio del congresso cittadino sul nome di Guido Siragusa che dovrebbe subentrargli alla guida del partito. Pare manchino solo gli ultimi incastri così da avere un PD unitariamente schierato sulla sua candidatura. Il segretario provinciale aspetta indicazioni da Palermo per ufficializzare la data di un congresso locale che si sarebbe dovuto tenere già entro fine gennaio. È inevitabile che i democratici sempre più opposizione alla giunta in consiglio comunale stiano anche vagliando le linee da seguire nei rapporti politici con l'amministrazione. Da mesi due consiglieri Gaetano Orlando e Alessandracia su atti molto sentiti dalla giunta alzano le barricate e l'ultimo esempio solo in ordine di tempo si è avuto durante la discussione sul regolamento per l'alienazione dei beni comunali con i democratici che alla fine non hanno partecipato al voto. Stesso copione anche sul finire dello scorso anno quando si è trattato di valutare gli atti finanziari. I demmi in quel caso si schierarono decisamente in controtendenza rispetto alla giunta. Tutte tappe che gli alleati di Greco non dimenticano affatto spingendoli ad un veto netto su eventuali ipotesi di rientro della PD in giunta. Di Cristina i suoi referenti più stretti hanno preferito puntare su un'opposizione piuttosto rigida. Non a caso i due consiglieri sono molto vicini al segretario provinciale. Pensare che la nuova guida del partito in città possa cambiare del tutto gli schemi pare piuttosto difficile. Di Cristina ha voluto usare un doppio canale sul piano istituzionale ed i demmi si sono dimostrati collaborativi nell'interesse della città agevolando i rapporti istituzionali tra Provenzano e l'amministrazione comunale anche dopo l'addio alla giunta. In aula consigliare è stata tutta un'altra storia e se ne sono accorti già da tempo i pro greco che infatti guardano al PD non certo con benevolenza politica. Negli ultimi giorni pare che i contatti tra di Cristina e Greco si siano interrotti dopo che il sindaco ha usato toni piuttosto perentori prendendo le distanze dall'atteggiamento dem sugli atti di giunta. Al momento l'ipotesi di un rientro magari con un azzeramento della giunta non pare trovare grandi consensi principalmente tra le fila dei pro greco. Qualche esponente locale dem però non ha ancora perso la speranza che la trama politica arcobaleno possa essere ripresa ritornando nelle stanze di giunta.